Il vento passava da 12 a 25 nodi Più ti avvicinavi al nero delle nuvole Più c'era pressione Quindi questa era la regola da seguire oggi Abbiamo fatto un secondo, un settimo Ti segnalo che secondo è il miglior risultato Sino adesso tra tutti gli italiani in 10 giorni Sì, ma sono un po' amareggiata A parte la prima regata Abbiamo regatato bene Girando la prima boa quinta Poi sempre in recupero La seconda regata abbiamo girato di nuovo Quinta e la bodybolina Di pop abbiamo girato prime E poi tutte e due La seconda e la terza bolina L'ultimo quarto In controfase completa È veramente stressante Perché quando iniziano a passarti le barche Da destra e da sinistra E sai che sei in controfase Però a volte non puoi vedere che c'è un'altra barche che sta arrivando È stato abbastanza frustrante Però la velocità c'è Sì, sì, la velocità c'è Abbiamo regatato bene Dovevamo andare bene oggi Perché già ieri non è stata Tutto sommato una grandissima giornata Quindi un po' Alla fine parti a casa Un secondo e hai il punto Un settimo Un settimo Insomma mi rode che di nuovo anche oggi abbiamo buttato via qualche punto Perché quelle davanti poi stanno andando forte Quindi vabbè c'è ancora Non siamo neanche a metà campionato Quindi E speriamo che asca il sole Ho già rotto il passo Credo che ti faccia entrare lo stesso Buon divertimento A domani, grazie